Un lampo, un lampo di Osimen condanna purtroppo la Roma di Mourinho questa sera, secondo quello che dice, diceva il radiocronista mi pare della RAI, un lampo di Osimen, il lampo di Osimen purtroppo in realtà nascoreggia The Smalling perché purtroppo questa palla a dieci minuti dalla fine, girata di prima dal subentrato Politano che era subentrato a Lozano, purtroppo quello che per certi versi il nostro miglior giocatore, almeno in questo momento, purtroppo gli sbaglia il movimento, quella palla non deve mai arrivare a Osimen, Osimen poi fa un gran tiro, diagonale, di collo leggermente con l'esterno, palla sicuramente imparabile anche per la violenza del tiro, però tra l'altro abbiamo preso un gol in una ripartenza, è quello che mi dispiace veramente tanto perché tutto sommato per 80 minuti la Roma aveva fatto la partita che non che doveva fare, che poteva fare perché dovevamo fare qualche cosa di più in attacco. Murigno l'ho sentito a fine partita, lui è uno che quando perde sapete che trova sempre qualche giustificazione, qualche spiegazione, allora lui diceva che dopo 70 minuti Spinazzola era in difficoltà, che Cardos ha giocato perché nella notte Zaleski ha avuto un'indisposizione, quindi non come dicevo io nel video dove dicevo ha scelto Cardos, doveva giocare Zaleski, ma non ha giocato perché ha avuto un'indisposizione notturna, quindi ha giocato Cardos che secondo me ha giocato una grande partita per come vedo le cose io, per quello che è il valore di Cardos, per quello che è il valore di Carazveglia, sempre molto aiutato nei raddoppi da Mancini, da Camarata, Zaniolo, gli hanno dato una grossa mano e lo abbiamo secondo me limitato per quanto possibile molto bene. Poi Murigno ha detto che anche Lorenzo Pellegrini aveva dolore, sentiva il flessore che gli dava dei problemi, aveva chiesto il cambio ma lui lo ha tenuto in campo ancora, lo ha pensato di tenerlo in campo, ha cercato un po', ha parlato anche del fatto che Matic fosse infortunato, che forse avrebbe giocato di più, avrebbe giocato al primo minuto, fosse un po' infortunato, ma secondo me Camarà ha fatto una buona partita e penso che Camarà deve giocare in questo momento qui. A volte Bari, a volte nel secondo tempo c'ho negli occhi una palla che ha tre quarti campo nostra, che lui non sa bene cosa fa e alza una specie di campanile verso l'area avversaria senza senso, a volte fa queste cose, però il suo dinamismo, la sua anche giovanità, la sua vivacità, la sua eroenza, secondo me per quello che la Roma oggi serve. Il Napoli è una squadra molto forte, che è venuta allo Stadio Olimpico e a questo proposito voglio fare un grande abbraccio, un grande applauso a tutti i tifosi che affrontando i soliti disagi, le solite difficoltà hanno riempito questo stadio facendo registrare il quattordicesimo sold out, cioè tutto esaurito consecutivo, cioè noi allo Stadio Olimpico abbiamo il tutto esaurito da 14 partite, 14 partite dove non abbiamo avuto sempre Roma-Napoli eccetera, ma abbiamo avuto Roma-Atalanta, Roma-Lecce, Roma-Monza, queste squadre qua, quindi sicuramente un grande applauso a questi tifosi che meriterebbero qualche cosa di più. Che partita è stata? È stata una partita decisa da un episodio per come vedo le cose io. Ve lo ha detto anche Mourinho a fine partita, ha detto questa è una partita che chi segnava vinceva, chi segnava molto bloccata e chi avesse segnato il primo gol vinceva e lui da quello che diceva nella sua mente si era disegnato la partita che me poi un lampo di Zaniolo ipotizzavo io che sicuramente ha avuto degli strappi molto importanti, ma Francesco Repice di Rai 1 che sta facendo la radiocronaca e Federico Nisi che stava facendo la radiocronaca su Teleradio Stereo, se non sbaglio è Teleradio Stereo, hanno visto due partite completamente diverse perché per Repice Zaniolo è stato il migliore dell'attacco della Roma, l'unico che ha cercato di fare qualcosa eccetera, mentre Federico Nisi ha parlato in termini molto negativi di Zaniolo, l'ha attaccato anche duramente dicendo che sta diventando un giocatore di rugby. Perché dice sta diventando un giocatore di rugby? Perché Zaniolo effettivamente ha questa tendenza, va un po' di tempo, a cercare il contatto fisico sullo scatto con l'avversario che poi spesso lo travolge, a volte fa fallo più lui dell'avversario, va poi sempre per terra, ma io non credo che sia una scelta, io credo che sia una scelta nel senso che come la Roma di Mourinho gioca molto sugli episodi, sulle palle inattive, io credo che lui abbia un po' la direttiva di procurare tante punizioni dal limite dell'aria, che però andrebbero battute un po' meglio anche quando si crozza, che oggi non è stato così, credo che sia questo il motivo, ma secondo me non è stato Zaniolo il problema di questa partita, noi allora innanzitutto bisogna capire bene una cosa, il Napoli è una squadra molto forte, la Roma è una squadra forte che soffre però terribilmente la mancanza di giocatori di una certa caratura, questi giocatori di una certa caratura si chiamano Gino Ainaldum e Paolo Di Bala, perché già con Paolo Di Bala questa partita sarebbe stata tutta un'altra cosa. Però cosa emerge poi alla fine? Emerge il problema che io da tempo ho individuato, cioè il fatto che non c'è una profondità nella rosa, questo è il problema, quando mancano dei giocatori importanti, noi nei minuti finali che dovevamo cercare di fare di tutto per pareggiare, non l'abbiamo fatto nel modo più assoluto, abbiamo buttato dentro Vigna, Sharawish, Muradov, prima era entrato Belotti, cioè non è che abbiamo dei cambi proprio tutti di alto livello, insomma ragazzi. Quindi la squadra purtroppo ha un suo limite strutturale ancora, che paga in modo esagerato il fatto di avere perso due dei suoi migliori uomini per infortunio, anche infortunio molto lunghi, perché Guainaldum non l'abbiamo mai visto praticamente, l'abbiamo visto per pochi minuti a Salerno, quindi una vera iattura è stata questa, però io quello che dico è questo, io seguo le partite e tutto quanto, oggi me la sono vista su streaming, secondo me si vede benissimo, con la radiocronaca però del GR1 e a tratti anche di teleradio stereo. Io dico questo, la partita l'abbiamo preparata in una certa maniera. A un certo punto salta al banco perché Smalling purtroppo ha un'amnesia su questo pallone, lui sbaglia il movimento per andare ad anticipare sul pallone, non prende il pallone, forse sorpreso dalla repentinità, dalla velocità di questa palla in verticale girata napolitano, secondo me è anche un po' così alla cieca. Osimène è una pantera ragazzi, Osimène è un grande centravanti, cioè a me mi dispiace dire questa cosa, però probabilmente se la Roma avesse giocato con Osimène e stasera al Napoli con un altro giocatore della Roma, forse avrebbe vinto la Roma, mi spiace dirlo. Osimène è una pantera ma quindi non lo devi mai mettere in condizione di tirare, di calciare in quel modo, in quella posizione che concedi una palla del genere sulla corsa, quello che un giocatore ti fa male, per cui io dovevo buttare la croce su Smalling stasera, ma non me la sento perché Smalling è un giocatore che ha sempre dato un contributo molto importante. Può succedere anche di fare una cappella a scoreggio, al cui parlavo in apertura dei video. Federico Onisi invece è stato durissimo, come vi dicevo con Zaniolo, è stato duro con Belotti, duro con Ebram, ricordando anche i numeri di Zaniolo che effettivamente sono impietosi perché Zaniolo in 11 partiti di campionato non l'ha ancora segnato. Qualcuno è stato sualificato, sì, ma non segna allo Stadio Olimpico dal 2019 in campionato. L'ha segnato con il Bodo in conferenzi lì che l'anno scorso, ma tra Tranacota, Latte, Infortuni, destra e sinistra, e diceva Federico Onisi che ha segnato pochissimi gol in un campionato e mezzo, cioè questo campionato in un campionato e mezzo adesso non mi ricordo quanti gol ha detto, però al di là dei numeri, secondo me lui è stato un po' eccessivo nei confronti di Zaniolo che non mi sembra che stasera sia stato il problema, anche perché lui ha fatto molto ripiegamento, anche inseguiva gli avversari, ha fatto quello che poteva. Però io a Mourinho una cosa gliela devo dire, perché io sono settimane che sto dicendo che Ebram non può andare in campo in questo momento in una squadra di Serie sia. Ebram è un'ombra, è uno spettro, non imbrocca una, sembra il nipote del, manco il cugino, il nipote dell'Ebram che abbiamo ammirato lo scorso anno che ha segnato 27 gol. non si capisce che cosa ha, però si capisce come sta giocando, cioè male, ma più che male è sterile, è come uno che, non lo so, che va in campo senza aver mangiato a pranzo, per dire, no? Perché faccio un esempio cretino, no? C'è uno che va là, ha fame, che si legge in piedi, che non so, ha un problema, non ha forze, non ve lo so spiegare, è anche sfiduciato secondo me. Però, come le vedo io, le cose le deve avere pure Mourinho, perché lui io capisco che, come dicevo nel video di presentazione della partita, lui sta cercando di sostenerlo psicologicamente questo ragazzo, di dargli fiducia anche se non se la merita, che spera di che si sblocchi, cioè pensate come sarebbe stato importante per Ebram, per esempio, questa sera fare un gol al Napoli, sarebbe stato importantissimo, magari il gol della vittoria, se sarebbe caricato, se sarebbe riconciliato. Oggi noi guardiamo a Temmie Ebram, che pure è un giocatore che amiamo tanto, con grande diffidenza, ma fin dal primo minuto che va in campo, cioè ci auguriamo, lo guardiamo e speriamo che si sia un po' ripreso, speriamo che stasera ci abbia voglia di fare qualcosa, perché il problema della partita di questa sera è molto semplice, ragazzi, che noi all'ottantesimo abbiamo subito gol, c'erano 10 minuti, poi ci sono stati 5 minuti di recupero totale, 15 minuti, nei quali, anche per rispetto agli ultimi punti, dovevamo andare all'arma bianca, perché tanto ormai, ma soprattutto negli ultimi 6-7 minuti, la partita era persa, ma che perdi 1-0 o 2-0, cambia niente, lì bisognava veramente buttare il cuore oltre l'ostacolo, non l'abbiamo fatto, non l'abbiamo fatto perché non lo sappiamo fare. Il problema nostro è questo, la Roma, per essere una squadra competitiva ai massimi livelli, avrebbe bisogno di due giocatori per farvi capire che tipo di giocatori ci servirebbero, per farvi capire la gravità della situazione, De Rossi e Totti, come vi dicevo l'altro giorno, cioè uno davanti alla difesa, altro che Cristante, De Rossi, e uno dietro le punte, Totti, al posto di Lorenzo Pellegrini, parlamo se chiaro, il quale con le sue giocate, con le sue imbeccate, potrebbe imbeccare, smarcare le punte. Questo ci manca, purtroppo è così, questi giocatori, purtroppo non è che uno ce li ha sempre, quando ce l'hai c'è molto fortunato, noi Francesco Totti, ma anche De Rossi, ce li siamo goduti a lungo, però quando poi vi vengono a mancare questi giocatori ti rendi conto che non è che si trovano con facilità. Immaginate questa squadra con De Rossi al posto di Cristante e Totti al posto, diciamo, di Pellegrini, cioè è chiaro che sarebbe tutta un'altra musica, no? Perché la squadra, nel suo complesso, una squadra forte, è che manca in alcune situazioni. Federico Nisi, come vi dicevo, è stato anche molto duro nei confronti di Belotti, ma Belotti, qui bisogna anche capirsi su una cosa, è uno che insegue, che si impegna, che lotta, che fa, però va anche servito, cioè nel Torino, se vi ricordate, i gol che segnava Belotti, spesso erano dei cross che lui finalizzava, spesso di testa, se vi ricordate, in acrobacia, era un grande finalizzatore, Belotti, di una squadra che spesso giocava anche di rimessa, perché veniva attaccata, trovava quindi anche degli spacci. Io continuo a sostenere che anche Ebram non viene servito molto bene, che bisognerebbe capire meglio come servirlo, come liberarlo al tiro. È vero che quando è andato al tiro in queste prime partite di campionato, spesso ha sbagliato anche solo davanti alla porta, indubbiamente, però questo problema io l'avevo individuato un po' anche l'anno scorso. Lui non ha l'uomo vicino, secondo me, che lo serve come lui vuole la palla. E lì su questa cosa bisognerebbe un po' lavorarci al di là dei suoi demeriti, che in questo periodo sono tanti, perché non è... io sottoscrivo quello che dico da diversi video, da diverse settimane. Temmi Ebram, io te voglio bene, ma in questo momento, ma non in questo momento oggi, in queste settimane, tu non puoi giocare in una squadra di serie A, di una squadra professionistica, cioè non sei in condizioni proprio psicologiche di far vedere quello che sai fare, di far valere anche la tua prestanza atletica, fisica. Queste cose Mourinho le deve capire, perché lui in questo momento non deve partire dal primo minuto, può entrare nella mezz'ora finale, probabilmente trova anche le riflette un po' più stanche, ma non è in condizione di giocare titolare Ebram. Mi duole dirlo, perché Ebram è stato uno dei grandi protagonisti della scorsa stagione, ha giocato delle grandi partite anche contro il Leicester, mi ricordo, si è impegnato tantissimo, ci siamo innamorati di questo giocatore, eccetera, eccetera. Oggi ho ricevuto delle foto da Roma di tante persone che hanno la maglietta con la faccia di Temmi Ebram, eccetera, eccetera, anche per sostenerlo, eccetera. E io continuo a sostenere Temmi Ebram, però se non sei in condizione di giocare, non devi giocare, questo è il problema, perché lui non è in questo momento in condizione di giocare. Dice, ma Belotti se non è più forte di Ria, non si tratta più forte o meno forte, non è atleticamente, psicologicamente, non ci sta, come ve lo posso dire, non può andare in campo, lui può entrare negli ultimi 20 minuti, in questo momento, quando sarà meglio, prima o meno, forse giocando un po' di meno, ma meglio, trovando qualche gol si sbloccherà un po' e probabilmente le cose miglioreranno. È normale che se fosse Di Bala, anche lui se ne gioverebbe, perché lui ha segnato due gol quest'anno, due assist magistrali di Di Bala, uno a Torino con la Diventa e uno a Empoli. All'Olimpio non ha ancora segnato un gol, anche questa è una cosa che va detta. E quindi, ragazzi, è una partita che, anche se siamo solo all'undicesima, mancano tante partite, abbiamo detto tante volte che poi a gennaio comincia un altro campionato, ma anche questo non è che può diventare un alibi, perché all'altro campionato bisogna arrivarci in una buona posizione di classifica, se noi avessimo battuto il Napoli oggi saremmo stati soli al terzo posto a un punto da Napoli e Milan. Adesso il Napoli se non sbaglia a sette punti, e sette punti sono cominciano ad essere tanti. Dice, ma tu allora volevi vincere lo scudetto? Non è che volevo vincere lo scudetto, perché il problema è che i posti per la Champions League sono quattro. Io a inizio stagione ho detto Inter, Milan, Roma e Juventus per questi quattro posti. Se anche il Napoli ci impone con prepotenza tra i primi quattro, forse addirittura per vincere lo scudetto, una di queste quattro che io ho indicato rimane fuori. La Juve adesso si sta riprendendo di brutto e poi piano piano recupererà gli infortunati, prima Chiesa, poi Di Maria, Pogba e tutti quanti, poi a gennaio magari torneranno anche sul mercato, quindi sarà sicuramente un bruttissimo cliente che tra l'altro vincendo ieri 4-0 sull'Empoli, adesso ci ha rosicchiato altri tre punti, è in ripresa la Juve. Quindi i milanesi, per quanto l'Inter ha tribolato molto a Firenze, sono due squadre forti, anche loro puntano ad entrare in Champions League, quindi alla fine il pericolo, avete capito qual è, è quello poi di rimanere un'altra volta fuori dalla Champions. Per quello che è il progetto Fritkin, quello che è il progetto Roma, sarebbe grave perché la Roma ha bisogno di stare nella Champions League per tutta una serie di motivi economici, di immagine, di... voi capite che fare la Champions significa avere una rosa molto più forte, ecco questo per andare poi al succo della questione, cioè tu all'inizio della stagione fai una rosa che sai che deve giocare in Champions molto più forte ed è per questo che io sostengo quelle regole che prevedono la retrocessione in Europa League da squadre che hanno cominciato in Champions in quella stagione, sono regole sbagliate perché le rosa sono state costruite con un obiettivo tecnico completamente diverso e queste squadre poi sono avvantaggiate. Io la vedo così, per me chi partecipa alla Champions deve partecipare alla Champions fino alla fine della stagione, chi partecipa all'Europa League deve partecipare alla Europa League e chi partecipa alla Conference deve partecipare alla Conference. Non devi retrocedere, se esci esci, le prime due vanno avanti, la terza e la quarta escono, io la vedo così, nel girone. Comunque insomma ragazzi oggi c'è un po' di amarezza perché tra l'altro abbiamo incassato nelle ultime tre partite in casa se non sbaglio con squadre forti, abbiamo faticato in realtà anche con il Lecce in dieci, abbiamo perso col Betis, abbiamo perso col Napoli, abbiamo perso con l'Atalanta, tre partite di misura anche un po' sfortunate sotto certi aspetti però ci aspettavamo qualcosina di più, ecco, è un peccato perché la partita tatticamente era questa, siamo stati forse un po' troppo rinunciatari, la partita difensiva è stata fatta correttamente, è stata una partita soddisfacente, anche intensa, combattuta, fisica, lottata, una battaglia, però qua il problema sta diventando questo, la Roma ha delle difficoltà enormi ad andare in gol, però queste difficoltà enormi molte volte nascono dal fatto che se tira troppo poco importa, non nascono solo dalle partite nelle quali abbiamo tante occasioni da gol, ma non riusciamo a segnare, nascono a volte anche da una fragilità che incontriamo contro delle squadre che sono forti, per cui mi sembra che fondamentalmente i problemi qua sono la mancanza di giocatori che purtroppo si sono infortunati e che mettono a nudo il fatto che la nostra non è una rosa profonda, quando mancano giocatori non ne risentiamo ne risentiamo spesso anche nei cambi durante la partita, perché purtroppo questo è un'altra cosa che si nota, spesso non abbiamo il rimedio all'altezza, è un rimedio un po' accroccato, un po' ripiego, perché io ho sempre detto, se mi seguite durante il calcio mercato, Belotti c'è qualcosa di meglio, io dicevo io prenderei Muriel, l'ho detto subito, Belotti non è un campione, ecco questo voglio dire, è un giocatore da battaglia, un gallo da combattimento, visto che lo chiamiamo il galletto, che poi piano piano si ritroverà, troverà anche una partita dove segnerà magari 2-3 gol, che capiterà la partita giusta e tutto quanto, però a fine stagione, ma quanti gol deve fa Belotti secondo voi, cioè che poi non gioca neanche titolare sempre, spesso gioca entra dopo eccetera, non è un giocatore che ti fa un salto di qualità, è un giocatore utile, che può essere utile, che se magari comincia a segnare prende anche fiducia, però qualcosina secondo me come campagna acquisti l'abbiamo sbagliata, siamo stati molto sfortunati come infortuni, siamo stati sfortunatissimi soprattutto per come sono venuti questi infortuni, uno si è infortunato calciando un rigore, quell'altro in allenamento, però complessivamente questa è una fase dove bisogna stringere i denti, ecco bisogna stringere i denti e capire che il 15 novembre si archivia questa prima parte della stagione e in questo momento con tre sconfitte già sul gruppone in 11 partite, in campionato più due in Europa League sono cinque, sinceramente tante perché noi praticamente abbiamo giocato quattro partite di Europa League e 11 in campionato sono 15 partite, sono cinque sconfitte, sono tante, ogni tre partite ne perdiamo una, noi abbiamo perso a Udine, abbiamo perso con l'Atalanta, due squadre che oggi hanno perso in campionato, Udine ha perso in casa col Torino, l'Atalanta ha perso in casa con la Lazio, poi abbiamo perso questa partita con il Napoli, sono già tre, già due sconfitte in casa, in un terreno di gioco, in uno stadio che dovrebbe essere un fortino e poi due sconfitte in Europa League, una anche linkata col Betis e una completamente imprevedibile e in attesa a Radgrad contro Ludo Gorisi, quindi il bilancio non è sicuramente dei migliori, abbiamo cinque sconfitte, abbiamo difficoltà enormi ad andare in gol e soprattutto i problemi sono sempre gli stessi, cioè se tira mai in porta, perché anche da lontano non si tira mai, e in pratica i gol o li fa Di Bala che si inventa qualcosa ma se è infortunato non si può inventare niente, oppure devi aspettare un colpo di testa di Smalling, di Bagnet su una palla inattiva o un calcio d'angolo, che è effettivamente un po' poco per una squadra che nel suo organico ha attaccanti come Di Bala va ben fortunato, però c'è Ebram, Belotti, Al-Sharawi, Shomurodo che è costato pure un sacco dei soldi, eccetera, eccetera, ti aspetteresti qualcosa di più, c'hai Zaniolo, c'hai lo stesso Lorenzo Pellegrini che anche lui dovrebbe avere più coraggio, più fiducia, provare di più a tirare, cioè quando tu non riesci ad arrivare al tiro, ad entrare in area di rigore, poca puttana, e a fare quello che ha fatto oggi Osimen, che ha fatto Osimen, ha avuto la palla, eh, pom, una bordata sul secondo palla, rivedeci e grazie, tre punti al Napoli e zero alla Roma, questo ha fatto Osimen, noi non lo facciamo, questo non lo facciamo mai, ma non ci proviamo neanche però, perché in una partita come questa sullo 0-1 in casa, a dieci minuti dalla fine, a un certo momento, ma tirate anche da 25 metri, ma provateci cazzo, perché ormai non c'è più niente da perdere, è persa la partita con una squadra che è anche brava, poi nelle ripartenze, eccetera, che è anche una squadra forte, Osimen è un grosso giocatore, ragazzi, è un giocatore che è una pantera, quando parte e ti punta a velocità fa veramente paura, è bravo di testa, è bravo a tirare, è bravo a creare spazi, è un giocatore molto forte. Il Napoli si trova prima in classifica, perché negli ultimi anni sono stati anche bravi nel calciomercato ad assicurarsi dei giocatori forti e a farli crescere nel contesto di un gioco sempre più consolidato, però hanno preso giocatori come appunto lo stesso Osimen o Carasvelia, che magari non erano neanche molto conosciuti e li hanno saputi valorizzare. La Roma, purtroppo mi dispiace dirlo, ma qualche acquisto l'ha toppato in modo clamoroso, abbiamo preso i giocatori anche che sono costati tantissimo negli anni, pensate un po' quanto è costato Patrick Schick e quello che ha reso, per esempio, quindi adesso purtroppo è un momento così, e voi mi direte, ma sono anni che è sempre la stessa storia, partiamo, che dobbiamo vincere tutto e poi piano piano si sgonfia tutto, eccetera, e ci avete ragione pure voi ragazzi, ci avete ragione pure voi perché purtroppo è una situazione che si ripropone, quello che io dico che bisogna in questa situazione delicata avere però coraggio e fare delle scelte anche sofferte perché io sono settimane che dicevo non possono giocare Christian Tematic, lo sapete voi, no? Bisogna per forza provare sto Camara perché è uno che se non altro ha molto dinamismo. Alla lunga è stato fatto perché è evidente questa cosa, ci si è messo un po' di tempo per arrendersi all'evidenza perché Camara era molto giovane, Murino diceva non è ancora pronto fisicamente, io fisicamente adesso lo vedo molto in palla fisicamente, si vede che non è ancora 90 minuti, infatti però alla fine si è fatto male anche al muscolo, eccetera, però fisicamente ci sta, adesso piano piano ingranerà, però ripeto quello che dicevo prima, sono settimane che vediamo che Ebra non è in condizioni di andare al campo nel primo minuto, questo problema qui è un problema molto grave perché per il tipo di partita che ha fatto oggi la Roma, che si sapeva che avrebbe fatto questo tipo di partita e basta che andiamo a vedere il video di presentazione che ho fatto per vedere che lo sapevamo tutti, baricentro molto basso, molto compatti, stretti, corti e a chiudere tutti gli spazi, è logico per poi ripartire, questo è l'unico modo di affrontare questa squadra, questi che li affronti a viso aperto fai la fine che ha fatto l'Ajax, o lo stesso Liverpool che non è in forma ma ne ha presi mi pare 4-5 non mi ricordo a Napoli, cioè non puoi affrontarli a viso aperto, questi negli spazi aperti ti fanno veramente male, la partita era questa ma se Ebra è in queste condizioni e Belotti è un uomo che non è che non gli puoi chiedere i miracoli io a sto punto veramente rinforzavo ulteriormente il centrocampo e mettevo Zaniolo prima punta lo lasciavo un po' lì al suo destino e qualche pallone che gli arrivava partiva e tirava in porta per come ha contribuito Ebra ma la manovra, bisogna cominciare a ragionare anche un po' così ragazzi perché questo ragazzo sta attraversando una crisi di identità proprio, cioè tu lo guardi e dici ma questo qui è quello dell'anno scorso? perché poi sembra anche dimagrito, non lo so, sembra smagrito lo guardi e dice ma è lo stesso o è un altro? quindi c'è un problema grosso, lui lo sa, lo sa, lo sa quello che vale, quello che viene pagato, quello che la gente si aspetta da lui ma lo sa anche che sono ormai mesi che lo stiamo aspettando ormai si va a chi l'ha visto a cercare Temmie Ebram e Murigno lo deve capire questo perché la trasfetta in Finlandia si va a giocare su un terreno insidioso un terreno stronzo, di plastica lo chiamano, un terreno sintetico dove la palla ha un imbalzo particolare che ci si fa male anche con facilità e un uomo come Ebram, così alto, così con le leve lunghe eccetera potrebbe avere delle difficoltà in questa partita non so se è il caso di rischiarlo dal primo minuto sia per questi motivi sia per quelle che sono le sue condizioni attuali quindi adesso Murigno è chiamato a delle scelte anche impopolari ma la Roma così come sta giocando ha delle difficoltà abbiamo avuto delle difficoltà enormi anche con squadre piccole ragazzi al di là dei gol sbagliati quindi una partita come quella con il Lecce con il Lecce che ha giocato tantissimi minuti 70 minuti, va in 10 contro 11 abbiamo fatto fatica anche lì quindi il meccanismo Roma è ancora da registrare ancora da oliare, ancora tutto da capire, da valutare credo che con la partita di oggi ci possiamo togliere dalla testa voli pindarici se avessimo vinto io dicevo è chiaro che se noi dopo 11 gare saremo a meno uno dalle prime due terzi in classifica da soli è chiaro che la Roma sarebbe ancora in lotta per lo scudetto ho detto nel videorepresentazione però adesso siamo a 7 punti 7 punti non è essere a un punto 7 punti alla squadra così se non hanno un tracollo e tutta una serie di infortuni non li recuperi quindi stasera cominciamo a scendere diciamo di livello il nostro obiettivo massimo quest'anno in campionato è entrare in Champions per fare questo c'è moltissimo da lavorare moltissimo da lavorare non sarà facile perché se noi andiamo ad esaminare le rose di Inter, Milan, Juventus e Roma scendiamo conto che la Roma ha qualcosa in meno in questo momento se recuperiamo Guarnaldum e Dybala e tutti quanti i titolari giocano con continuità allora se ci dice bene magari le altre squadre li gira male hanno qualche infortunio loro allora si può vedere ma se continueremo a avere qualche problema di riformazione è difficile anche perché non è che si può pretendere che Smalling non sbagli mai cioè io non posso gettare la croce su Smalling stasera perché Smalling quante partite ci ha salvato ci ha difeto abbiamo detto che è un grande giocatore tutte queste cose qua oggi purtroppo Suosiman nell'uno contro uno ve la devo rivedere meglio quell'azione non so se è stata proprio la forza d'urto di Usiman che l'ha un po' sbilanciato non lo so però si è perso Usiman raga questa è la situazione Usiman è andato via e questo è un giocatore che abbiamo visto che cosa è capace di fare se lo lasci tirare lo metti in condizione di tirare anche la posizione angolata dandogli il tempo di coordinarsi eccetera di caricare il tiro questo è un giocatore non lo devi mai lasciar tirare questo è il punto se lo lasci tirare questo è capace di vincere la partita da solo perché questo poi ha fatto oggi tutto questo però non è una giustificazione non ha libri di quello che succede dopo cioè nell'ultimo quarto d'ora noi abbiamo torto non siamo difendibili lì tu devi buttare tutto quello che hai poi devi dire al pubblico raga noi andiamo a cercare le pareggiate ne prendiamo un altro ma che dobbiamo fare qua mancano 7-8 minuti di fronte a un pubblico del genere ci dobbiamo provare e butta pallone in mesca in the box proprio tutti avanti quando se la situazione permette palla in the box cerca una spizzata di testa cerca la punizione qualcosa io questo non l'ho visto sinceramente ho visto qualche pallone anche stoppato in modo maldestro da Belotti che era a prese con le mani tra l'altro in modo un po' goffo eccetera non ho visto la nostra forza d'urto lì ci voleva la forza d'urto che non c'è stata e quindi è chiaro che qualcosina anche nel calciomeccato probabilmente non è stato non abbiamo fatto un calciomeccato completo noi abbiamo fatto dei grandissimi colpi la sfiga purtroppo si è abbattuta su di noi perdendo questi due giocatori oggi non aver avuto Dybala è stata veramente come anche con la Lazio ci sarebbe servito tantissimo Dybala sono dei giocatori la Roma c'è una Roma io dico sempre c'è una Roma con Smalling e una Roma senza Smalling ma c'è anche una Roma con Dybala e una Roma senza Dybala quelli sono proprio due giocatori chiave Wijnaldum purtroppo non l'abbiamo mai visto quindi aspettiamo perché il giocatore è molto forte ma è anche ingiudicabile che non l'abbiamo mai visto il Moly Gendimbala sui giocatori sono un altro livello rispetto agli altri e quindi ragazzi che ve lo dico purtroppo non è andata come speravo non è andata come sapevamo che è una partita molto difficile il Napoli è una squadra molto forte complimenti a Spalletti complimenti a Spalletti lo conosciamo bene sappiamo che è un ottimo preparatore atletico che è un ottimo allenatore ha un carattere particolare ma le sue squadre spesso partono a mille non è una novità ci ricordiamo molto bene anche il periodo delle undici vittorie consecutive che potevano essere anche dodici se Materazzi dell'Inter non avesse pareggiato all'ultimo minuto di testa sul calcio d'angolo quindi conosciamo il valore di Spalletti riconosciamo la forza complessiva del Napoli che oggi non aveva tra l'altro Anghissà e Rachmani quindi auguri ai napoletani siete stati siete stati bravi nel tempo a costruire una squadra forte e da domani si comincia a lavorare per la trasferta in Finlandia per ripartire e provare a ripartire in queste poche partite che mancano prima della sosta per i mondiali in Qatar vi ringrazio per l'attenzione e vi abbraccio tutti vi ringrazio per l'attenzione